E' un onore. Oh, oh, oh. Peppino. Antonio, cosa sei venuto a fare a Roma? Ti hanno fatto passare al Dazio. Cosa vuoi? Cosa voglio? Bisogna assicurare se sei veramente un barbacare. Sono un barbacare, perché? E a loro come cugini barbacare ricordate che abbiamo un nonno barbacare. E' con questo? E' con questo che mi voglio onorare questo vecchio barbacare che è tua nonna. Ecco, bravo. Come cugini barbacare? Bisogna onorare questo vecchio barbacare che è tua nonna. Ecco, bravo. Come, come? L'ho imbalato a memoria. L'ho imbalato a memoria. Eh, ecco questo. Le ho le scatole tiene. Le avete rotte le scatole. Capito?